Maestra Dinaro muore dopo un malore improvviso davanti agli alunni di una scuola della provincia di Verona. Lutto a Santa Barbara si è spento il capro gruppo scout Massimo Sicilia. Caro bollette, iniziativa della Confederazione Nazionale Artigianato e della piccola e media impresa. Richieste di interventi urgenti a Gibil Gabib, parla l'assessore comunale Marcello Frangiamone. Nissa Rugby, petizione su internet per il manto sintetico dello stadio Tomaselli. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la tragedia verificatasi a Verona. Una giovane maestra Dinaro è morta davanti agli alunni di una scuola della provincia di Verona dopo un malore. È morta stroncata da un malore improvviso contro il quale non sono bastati soccorsi tempestivi di colleghi e personale sanitario. È scomparsa così Giovanna Fabrica, 44 anni, originaria Dinaro in provincia di Agrigento, maestra presso la scuola primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea, nel Veronese. L'insegnante abitava a Cerea con il marito Angelo e dallo scorso anno insegnava presso l'Istituto Ederle Scienza e Geografia. Il malore l'ha accolta ieri pomeriggio alle 14, mentre era in classe con i suoi bambini dopo aver concluso da poco la lezione del consueto rientro pomeridiano. Improvvisamente, dopo aver salutato il collega di italiano che era entrato in classe per svolgere le ore successive di lezione, la maestra si è accasciata a terra prima di uscire dalla seconda B. Il maestro, tempestivamente senza farsi prendere dal panico, è intervenuto subito praticando il massaggio cardiaco, appreso lo scorso anno nel corso salvavita che l'Istituto Ederle aveva attivato per tutto il personale. Nel frattempo, richiamava l'attenzione degli altri insegnanti perché si precipitassero con il defibrillatore in dotazione alla scuola e portassero fuori i bambini che, sotto shock, avevano assistito alla drammatica scena. Mentre il maestro ha continuato per un quarto d'ora la manovra di rianimazione, sono arrivati sul posto un'ambulanza del 118 e subito dopo l'elisoccorso di Verona Emergenza. Purtroppo però, nonostante 30 minuti di tentativi per salvarle la vita, per la giovane maestra non c'è stato nulla da fare. Lutto a Santa Barbara si è spento il capogruppo scout Massimo Sicilia. I particolari. Lutto nella comunità di Santa Barbara e non solo. Si è spento il capogruppo scout della parrocchia Massimo Sicilia, cinquantenne, ad annunciare la triste notizia e il parroco Don Marco, che scrive in un post su Facebook. Siamo profondamente addolorati nell'apprendere questa triste notizia, anche se purtroppo preparati da giorni a questo umano distacco a motivo del peggioramento delle sue condizioni di salute. Il parroco aggiunge, caro Massimo, ti ringrazio a titolo personale e dell'intera comunità parrocchiale per il servizio svolto in questi tre anni in mezzo a noi e soprattutto ti sarò grato a vita per averci permesso di avviare l'esperienza scout nel nostro quartiere. Pur non vivendo a Santa Barbara, sottolinea Don Marco, sei riuscito ad entrare subito nel cuore dei ragazzi e a farti stimare in poco tempo dalle famiglie e dai collaboratori parrocchiali, evidenziando sei stato un educatore appassionato che ci ha trasmesso l'amore verso le nuove generazioni. Sempre pronto al servizio, non ti sei mai tirato indietro e hai avuto la capacità di stimolare il gruppo in ogni momento. I funerali di Massimo Sicilia, giovedì alle ore 15.30 in Cattedrale. Da Lodin, Lombardia, a Caltanissetta per raggiungere il ragazzo di cui si è innamorata, il lungo viaggio di una sedicenne che ha fatto vivere ore di ansia e preoccupazione ai suoi genitori che si sono immediatamente rivolti ai carabinieri non vedendola rientrare. Nel svolgere di poco tempo i militari dell'arma hanno localizzato il cellulare della giovane che è stata rintracciata al capolinea dei pullman extraurbani dove l'aspettava anche il fidanzatino. In questi casi, dopo l'identificazione, è previsto l'affidamento ai genitori, i quali dopo l'attesa e la rassicurante chiamata dei carabinieri sono partiti subito per la Sicilia. Stop al caro bollette, iniziative della Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa. A chiedere uno stop al caro bollette della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella sede territoriale di Caltanissetta, da voce così al grido di aiuto alle imprese per la grave crisi in corso che definiscono essere una corsa inarrestabile all'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche. CNA è fortemente preoccupata sull'andamento di quello che è il continuo aumento delle bollette, sia della luce che del gas, sia per quanto riguarda le nostre imprese sia per quanto riguarda le famiglie e quindi i cittadini. Perché temiamo che questo sia una miscela esplosiva che porti alla chiusura di centinaia di imprese e al licenziamento di non sappiamo quanti lavoratori con un problema anche sociale. Quindi da qui nasce il grido di dolore e di aiuto che CNA sta lanciando al Governo regionale, nazionale e a Bruxelles. In quest'ottica ci stiamo impegnando per fare delle assemblee perché chiediamo alle amministrazioni locali di darci manforte, di essere anche loro protagoniste insieme a noi, insieme alle altre associazioni datoriali e sindacali, per fare poi a novembre, il 7 di novembre, una grande manifestazione regionale a Palermo dove porteremo in piazza speriamo decine di migliaia di persone, di imprese, perché chiedere aiuto, per chiedere un sostegno, per chiedere che il Governo non lasci da sole queste imprese perché la fine sarebbe catastrofica. Quindi una situazione di profonda emergenza che rischia di abbattersi sul lavoro e sulle famiglie ed è per questo che CNA organizzerà già nei prossimi giorni assemblee cittadine nei 22 comuni della provincia di Caltanissetta coinvolgendo le amministrazioni locali, le organizzazioni datoriali, le organizzazioni cittadine di imprese dell'intero territorio nazionale, tutto in vista della manifestazione che si terrà a Palermo il 7 novembre prossimo. Interventi da realizzare a Gibilgabib parla l'assessore comunale Marcello Frangiamone. Il servizio. A distanza di qualche giorno dalla conclusione della fiera di San Michele svoltasi nell'area dell'ex foro buario di Caltanissetta torniamo a parlare di Gibilgabib. In una nota di fine settembre il presidente del comitato di zona Totò Pecoraro infatti faceva riferimento al luogo scelto per ospitare la manifestazione, ai disagi per i residenti nel rientrare a casa ma anche alle condizioni in cui versano le strade. E proprio di strada abbiamo parlato con l'assessore lavori pubblici Marcello Frangiamone chiedendo aggiornamenti sul progetto che permetterà alle famiglie che abitano nella zona di riscontrare delle migliorie nella viabilità e agli interventi di manutenzione in programma. L'attività che si sta svolgendo sulla contrada e sulla via Gibilgabib è di due tipi. Da un lato c'è il completamento di un progetto che deve essere avviato entro fine anno per quanto riguardava la via Gibilgabib che è un progetto importante per la sistemazione della strada fino ad arrivare all'area degli scavi sostanzialmente. Contemporaneamente si sta provvedendo a dare l'avvio a dei lavori di manutenzione ordinaria quindi dei lavori più semplici però altrettanto importanti per quanto riguarda la strada vicinale che ha necessità di interventi per renderla meglio percorribile agli autoveicoli e anche a tutti gli automezzi. Anche questi nel breve termine saranno avviati. Per i lavori di manutenzione ordinaria già l'impresa è stata individuata e quindi questi lavori nel breve tempo partiranno. Per gli altri essendo un intervento più importante a conclusione del progetto dovrà essere avviata tutta la procedura per la gara e poi quindi potranno iniziare i lavori. Probabilmente passerà qualche mese di più. Tiene ancora a banco la questione sui lavori del manto erboso al Marco Tomaselli. Petizione della Nissa Rugby. La DLF Nissa Rugby ha lanciato una petizione online per la querela del campo del Tomaselli che giorno dopo giorno prende sempre tinte più colorite. Dopo sei anni di lotte per non perdere il finanziamento da circa un milione di euro elargito da coni sport e salute il rifacimento del manto erboso dello stadio Tomaselli in superficie artificiale con doppia traccatura a calcio rugby sta diventando un'utopia. Il rugby a Caltanissetta è ormai presente da vent'anni continuativamente. Una tradizione della città che insieme alle squadre di altri sport quali il calcio, la pesistica, il basket e la pallavolo rappresenta la città in Italia. Nissa Rugby concentra le sue attività allo stadio Tomaselli che ha curato anche negli anni, ripulito e reso fruibile a migliaia di bambini e famiglie provenienti da tutta la Sicilia nonché dalle scuole del territorio. Il Tomaselli è la cattedrale dello sport nisseno ed oggi è minacciata nella sua possibilità di restare tale. Ad oggi non risulta la traccettura intarsiata per il rugby pregiudicando alla squadra la possibilità di giocare non potendo fear concedere l'omologazione per un gambo così. Non essendoci altre strutture in città pregiudicherebbe a cendinaia di bambini di giocare ad uno sport che fa ormai parte della tradizione della città e a chissà quanti altri di conoscere un nuovo sport. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Fabrizio Blandi delegato provinciale FIR. Abbiamo lanciato questa petizione ieri che già stamattina ha raggiunto le 500 firme dal Confrensorio, dalla Sicilia, da tutta Italia perché noi facciamo parte di una rete di società che è quella delle Zebbre Family che ci sta supportando in tutto e per tutto insomma anche le Zebbre Parma stesse che sono il capofila di questa rete e ci permetto di ringraziarli diciamo si sta spendendo molto per noi e anche grazie alla federazione io penso che sono molto fiducioso e raggiungeremo un buon risultato dal punto di vista della petizione così diciamo a chi ascolta diremo anche che faremo degli eventi in presenza appunto per la raccolta firme per sensibilizzare le persone su quello che è un problema di tutti cioè che lo sport e lo stadio Tomaselli rimanga una struttura per tutti quanti anche perché ci dobbiamo sempre ricordare che qui la più grande eccellenza che abbiamo a Caltanissetta è la pesistica e la pesistica è lo stadio Tomaselli quindi non è uno stadio né del rugby, del solo rugby né del solo calcio è uno stadio che va bene per tutti quanti e deve rimanere una casa che nessuno ha in questo momento a disposizione perché gli altri sei stati più grandi del nostro sono ad esclusivo appannaggio di società professionistiche deve rimanere quello che è cioè una casa per tutti gli sportivi sia professionistici sia amatoriali il medico superiore della polizia di stato Salvatore Di Benedetto dirigente dell'ufficio sanitario della questura di Caltanissetta è intervenuto come relatore nell'auditorium del liceo classico linguistico coreutico Ruggero VII di Caltanissetta al secondo convegno finalizzato alla diffusione della cultura della legalità l'iniziativa, rivolti agli studenti delle classi della scuola secondaria di secondo grado con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani al principio della non violenza è stata dedicata ad Aldonaro Carte in dimora partecipa anche Caltanissetta il servizio Dalla fine del 1500 ad oggi copertine segnate dal passare degli anni o meglio dei secoli pagine in giallite che probabilmente sono state sfogliate e risfogliate lette e rilette oggi però con un occhio diverso rispetto al passato quando quelle notizie raccontate nei fogli di giornale erano attualità mentre adesso sono storia alcuni testi e documenti delle biblioteche archivi benintende e lanzirotti sono stati esposti all'interno di una delle sale del palazzo dell'ex poste sabato 8 ottobre l'associazione di more storica italiana ha infatti promosso la prima giornata nazionale di apertura di biblioteche e archivi privati e così anche la cittadina nissena ha avuto l'occasione di vedere da vicino volumi e carteggi anche se non all'interno del reale sito in cui abitualmente vengono custoditi poiché come si legge in una nota della sezione siciliana dell'associazione e in completo il restauro dell'edificio storico l'anzirotti benintende spero che si precisa ancora nella nota della presidente della sezione siciliana attraverso questa esposizione i libri, i documenti e i carteggi scelti siano in grado di suscitare i presenti la riflessione che le dimore storiche anche quelle collocate nell'entroterra della nostra meravigliosa isola come nel nostro caso hanno tanto da esprimere e possono dare opportunità di ricchezza interiore e materiale a coloro i quali scelgono di investire le loro energie in esse malgrado le difficoltà non indifferenti anche Caltanissetta ha quindi aderito così come avvenuto in altre città in tutta Italia all'iniziativa Carta in Dimora archivi e biblioteche storie tra passato e futuro evento nazionale dell'associazione dimora storica italiana in collaborazione con la direzione generale archivi del ministero della cultura e con l'associazione nazionale case della memoria nell'ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario si legge nel sito dell'associazione l'evento ha anche ricevuto il patrocinio del ministero della cultura ministero che il giorno successivo ha promosso le domeniche di carta che punta alla valorizzazione del patrimonio archivistico e librario di biblioteche e archivi dello Stato Nell'ambito del programma biennale Erasmus che vede impegnato anche l'istituto comprensivo Paolo Emiliani giudici di Mussomeli guidato dalla dirigente Agata Rita Galfano una delegazione di alunni della scuola insieme a un gruppo di studenti di Spagna Turchia Belgio e Finlandia ha effettuato una visita al laboratorio di acque potabili di Caltacqua e al serbatoio di San Giuliano la principale infrastruttura di accumulo al servizio dell'intera rete idrica di Caltanissetta che è stata interessata da importanti regenti lavori di ammodernamento ed efficientamento fra le finalità dell'iniziativa quella di fornire utili cognizioni ed elementi di approfondimento oppure sul ciclo delle acque presente anche la responsabile del laboratorio acque potabili Ilaria Milazzo la mostra Ulisse in Sicilia i luoghi del mitro prorogata fino al 30 ottobre a Gela Prolungata fino a fine ottobre la durata della mostra Ulisse in Sicilia i luoghi del mito organizzata dalla regione siciliana all'interno del parco archeologico di Bosco Littorio Gela allestita dalla soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta già dal 22 luglio e fino alla fine di ottobre continuerà a raccontare il passaggio dell'eroe greco in Sicilia la nave di Gela per la prima volta viene parzialmente ricomposta ed esposta al pubblico in Sicilia è protagonista di questa mostra rinvenuta nei fondali davanti la costa di Bulala grazie alla disponibilità del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali che ha concesso un ulteriore finanziamento per coprire i costi supplementari e grazie anche alla disponibilità degli enti prestatori che hanno autorizzato i prestiti per altri 20 giorni la mostra Ulisse in Sicilia sarà prorogata fino al 30 ottobre questo principalmente per consentire ai tanti che ne hanno fatto richiesta di poterla visitare prevalentemente le scuole il punto di forza di questa mostra è indubbiamente il racconto del mito il mito di Ulisse ancora vivo in Sicilia è presente in molte parti dell'isola che viene raccontato attraverso un percorso espositivo costituito da otto sezioni tematiche il fulcro di questo percorso è certamente la nave greca recuperata nelle acque antistanti con Tradabulala gela dalla soprintendenza con diverse campagne di scavo negli anni 90 e simboleggia il viaggio di Ulisse dalla nave poi si diparte ovviamente tutto il percorso che porterà finalmente al ritorno a Itaca di Ulisse e si conclude con una sezione dedicata ai viaggiatori che nel 700 percorrevano la nostra isola raccontando le peculiarità della Sicilia e soffermandosi particolarmente sui luoghi oggetto del mito di Ulisse l'allestimento è suddiviso in otto sezioni tematiche 80 ai pezzi di musei regionali nazionali ed esteri esposti dal museo nazionale di Etta di Ruvo di Puglia al museo etrusco Guarnacci di Volterra al museo nazionale di Villa Giulia Roma come il museo nazionale di Sperlonga e di musei archeologici greci di Delfi e di Eleuterna un lavoro che consente ai visitatori di fare un viaggio alla scoperta della storia seguendo i passi dei greci in Sicilia e nel Mediterraneo ed il fascino delle vicende di Ulisse Ancora cultura famiglia al museo a Caltanissetta in primo piano sculture e bozzetti di Tripiciano i disegni sono appunto miei di quando avevo 11 anni circa e sono appunto tutti dei bozzetti di statue e opere che poi ho realizzato quando sono diventato un pochino più grande racconta le sculture bozzetti e disegni di Michele Tripiciano presenti nelle varie sale della Galleria Civica d'Arte di Palazzo Moncade lo fa parlando in prima persona il volontario della Proloco Nissena Armando Gioia che per un giorno veste i panni dello scultore nisseno vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e inizi del Novecento interpreta dunque il ruolo dell'artista accogliendo e guidando i bambini tra le opere in occasione della giornata nazionale delle famiglie al museo numerosi infatti musei in tutta Italia che hanno aperto le porte più piccole insieme alle loro famiglie domenica prevedendo attività loro dedicate come nel caso del museo di Ocesano Monsignor Giovanni Speciale di Caltanissetta e così la Proloco Nissena ha proposto anche dei giochi fotografici come ogni anno Caltanissetta aderisce all'iniziativa di famiglia al museo in breve FAMU sono tanti musei diversi musei comunque che aderiscono e anche noi come Proloco abbiamo aderito con il museo dedicato a Michele Tripiciano grande scultore nisseno oggi l'iniziativa è dedicata ovviamente alle famiglie e soprattutto anche ai bambini quindi abbiamo realizzato insomma diverse attività per i bambini per farli divertire all'interno del museo lo ripeto ormai da tantissimo tempo sarò ripetitivo però noi crediamo fortemente che la cultura comunque nissena deve essere data ai bambini già proprio dall'infanzia insomma già dalla scuola elementare insomma devono assolutamente crescere consapevoli del fatto che Caltanissetta ha tante potenzialità e devono assolutamente conoscere da dove vengono e le persone che hanno fatto tanto per portare in alto anche il nome della nostra città gite scolastiche sicure proseguono i controlli della polizia stradale nel territorio della provincia di Caltanissetta numerosi controlli eseguiti in diversi comuni alle istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta si legge in un post sulla pagina facebook della questura nissena la polizia di stato assicura infatti un servizio di controllo sia prima della partenza che in itinere sui mezzi di trasporto dedicati alle visite di istruzione i controlli tendono ad assicurare che i viaggi dei ragazzi siano confortevoli e sicuri Università della terza età alla parrocchia San Pietro il servizio ci sarà anche un laboratorio di danze popolari ogni giovedì alle 19.30 a partire dal 20 ottobre tre corsi in programma per il primo quadrimestre dell'università senza età l'edizione 2022-2023 di questa avventura culturale si rivolge a tutta la città e per il settimo anno prevede diverse attività la parrocchia di San Pietro ha predisposto un fitto calendario di corsi tra inglese astronomia e storia oltre che danza grazie come sempre alla collaborazione di Maria Lupo Cettina Ginevra e Fiorella Falci che da anni mettono a disposizione del progetto le proprie competenze e il proprio tempo e dunque la parrocchia si prepara ad accogliere i corsisti che senza dover affrontare i samifinali decideranno di frequentare le lezioni di quest'anno è un appuntamento fisso nella tradizione ormai della parrocchia ma della stessa città di Caltanissetta perché sono tanti anche i cittadini nisseni che giungono da ogni parte della città per partecipare ai vari corsi alcuni storici come il corso d'inglese uno dei più antichi in questa istituzione dell'università senza età presso la nostra parrocchia altri nuovi come quello della storia controversa vicende particolari personaggi particolari storie che sembrano apparentemente irrisolte nel territorio locale e che verranno raccontate da studiosi che approfondiscono questi temi il corso di astronomia come anche il corso legato alle danze popolari il laboratorio di danze popolari e sono tanti docenti coinvolti che gratuitamente svolgono questo servizio ricordo sempre che l'iscrizione è gratuita che non sono previsti esami finali che tutti possono partecipare è vero che noi chiamiamo queste istituzioni università senza età ma non occorrono titoli di studi particolari perché è un momento culturale un momento caritativo di aggregazione come tanti altri che ne viviamo in parrocchia dove ci si ritrova insieme per stare insieme e per conoscere per fare esperienza di conoscenza si inizierà il 18 ottobre alle 17.30 parlando di Monsignor Gutta d'Auro Don Antonino Romano docente ordinario di catechetica presso l'istituto San Tommaso di Messina che verrà a parlare del rapporto tra Monsignor Guarino e Monsignor Gutta d'Auro il cardinale Guarino originario di Monte d'Auro Monsignor Gutta d'Auro originario di Catania ma fu il secondo vescovo della diocesi di Caltanissetta e in quell'occasione sarà presentato ufficialmente il numero 9 della rivista nazionale di Catechesi numero 9 che è una monografia che è stata dedicata tutta al vescovo Monsignor Gutta d'Auro dove figurano articoli scritti da diversi docenti sacerdoti e nonna della diocesi di Caltanissetta Nel giorno del tredicesimo anniversario della scomparsa dell'appuntato dei carabinieri Giovanni Salvo il tenente colonnello Alessio Artioli in rappresentanza del colonnello Vincenzo Pascale comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta ha ricordato durante una celebrazione liturgica tenutasi nella chiesa della Madonna del Rosario di Monte d'Auro la prematura scomparsa dell'appuntato deceduto nel 2009 nel corso della funzione religiosa celebrata da Don Massimiliano Novembre è stato ricordato il triste episodio avvenuto nel corso di un servizio antirapina la commemorazione si è conclusa con la deposizione di una corona dall'oro sulla lapide dedicata al caduto nel parco della rimembranza dei caduti in guerra la Madonna della Provvidenza a San Giovanni Gemini tra fede e folclore il servizio è stato un fine settimana all'insegna dei festeggiamenti quello che si è appena conclusa a San Giovanni Gemini dopo tre anni di assenza complice alla pandemia domenica si è svolta la manifestazione in onore della Madonna della Provvidenza caratterizzata da una profonda devozione da parte della comunità del paese montano il sentimento così profondo ha ispirato da 150 anni la tradizionale festa della Fera Sottocuozzo che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre la festa della Madonna della Provvidenza risale circa al diciottesimo secolo quando venne donata alla chiesa di San Giovanni Gemini questa statua fatta da alcuni mastri legnai siciliani e rappresenta la Vergine Santa della Provvidenza una festa che di anno in anno si è portata avanti grazie a diverse famiglie e anche quest'anno dopo questa pausa pandemica diciamo così di circa tre anni riprende nel massimo dello splendore giorni in cui le celebrazioni religiose si uniscono al folklore momenti di spensieratezza per tutta San Giovanni Gemini dopo anni di assenza pandemica è stata l'occasione per ritrovarsi in particolar modo per i tanti giovani che per motivi di lavoro o di studio guardano da lontano la quotidianità del paese tornare con i vecchi tempi con gli amici tanta gente che passeggia tra le bancarelle un po' ricorda quando eravamo più piccoli poi si magari pranzava tutti dai nonni è un momento di festa per il paese soprattutto per noi ragazzi che studiamo fuori un fine settimana inoltre di ristoro per le attività locali che negli ultimi anni hanno patito con più bemenza la crisi economica considerando che il tempo è stato clemente perché di solito piove per questa festa c'era un bel movimento ragazzi che avevano voglia di divertirsi e comunque una situazione ritengo molto positiva per noi commercianti e speriamo che continui così San Giovanni Gemini quindi cerca conforto nelle sue ritrovate tradizioni nel tentativo di allontanare le non poche preoccupazioni fra una crisi economica mondiale e una situazione internazionale sempre più incerta e passiamo allo sport mercoledì di Coppa Italia per la Nissa che domani alle 15.30 sarà impegnata contro l'Acragas all'esseneto di Agrigento per il ritorno degli ottavi la società acragantina ha già avviato la prevendita dei biglietti per assistere alla partita per accedere al settore ospiti tifosi nisseni pagheranno 10 euro ingresso gratuito per le donne e i ragazzi di età non superiore ai 12 anni nella gara di andata al Palmintelli Nissa e Acragas non sono andate oltre lo 0 a 0 Bene per questa edizione è tutto vi lascio al meteo e alle notizie di pubblica utilità appuntamento rinnovato alle prossime edizioni grazie per essere stati con noi Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Tribi Meteo nella giornata di mercoledì l'Italia sarà interessata da pressioni medie livellate unite anche a un passaggio di correnti più umide che portano una maggiore presenza nuvolosa verso la Sardegna qui con qualche piovasco infatti osservando la mappa della nuvolosità notiamo come il nostro paese sia comunque interessato da nuvole alternate a momenti soleggiati le nuvole però saranno un po' più concentrate proprio sulla Sardegna qui con la possibilità per delle piogge infatti dallo zoom delle precipitazioni notiamo come proprio l'isola si è interessata dai fenomeni precipitativi ma anche qualche disturbo è atteso sull'arco alpino nel corso del pomeriggio così come sulla dorsale appenninica vediamo più nel dettaglio quindi il tempo che ci attende nella giornata di mercoledì sarà complessivamente soleggiato con clima sempre molto gradevole durante il giorno da segnalare qualche banco di nebbia all'alba sulle pianure del nord specie lungo il Po una maggiore presenza nuvolosa poi è attesa sull'arco alpino anche sui settori interni del centro sud ma come dicevo sarà la Sardegna a vedere una maggiore nuvolosità qui con qualche pioggia sin dalla mattinata ma per tutti i dettagli consultate l'app gratuita di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Vizzini Viale Trieste Servizio notturno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Vizzini 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 Grazie a tutti.